Wow! I feel good! Ciao, sono Francesco Savarino, ho 22 anni, sono laureato in Economia Aziendale la triennale qua a Torino e ho scelto questo Master perché voglio fondere la mia forte passione per il cinema con i miei studi in campo economico. Ciao, sono Elisabetta Masiello, sono laureata in Scienze della Comunicazione a Potenza e ho scelto questo Master proprio per approfondire le conoscenze in ambito cinematografico. Ciao, sono Flavio Riccio, ho 27 anni, ho studiato Comunicazione e Cinema a Napoli e sono qui al Master perché vorrei approfondire gli aspetti produttivi e manageriali del videomaking perché è quello di cui mi occupo già da un paio d'anni sia per passione che per lavoro.